Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, ospite quest'oggi in studio Mattia Gosetti, sindaco di Cibiana di Cadore, grazie per aver risposto positivamente all'invito. Grazie a lei, un saluto naturalmente a tutti i nostri spettatori. Iniziamo parlando di coronavirus, come facciamo un po' ultimamente? Questo fenomeno che ha colpito tutta Italia, tutto il mondo, le grandi città, anche i piccoli paesi. Da voi questa avventura, brutta avventura, come è stata vissuta? Diciamo che noi siamo stati un po' una piccola isola felice perché effettivamente è arrivato di striscio, abbiamo avuto due soli contagi, peraltro fortunatamente erano due ragazzi che vivono assieme, erano asintomatici, hanno rispettato le regole e quindi non abbiamo avuto, non si è esteso il rischio. Devo anche fare un complimento ai miei concittadini perché sono stati tutti molto bravi, hanno rispettato le regole, utilizzavano sempre la mascherina laddove doveva essere utilizzata e tutte quante le norme di distanza di sicurezza e di igiene, per cui devo dire che lo abbiamo affrontato veramente molto bene. Iniziamo a parlare dunque di infrastrutture, c'è uno svincolo che sta venendo avanti, è previsto diciamo. Lo svincolo a Venasse, nella strada di accesso a Cibiana di Cadore, naturalmente un'opera che noi avevamo richiesto, che avevamo comunque già dimostrato la nostra intenzione nel volerci battere per avere lo svincolo di Venasse nel nostro programma elettorale, quando ci siamo presentati l'anno scorso. Lo svincolo è un'opera fondamentale perché in questo momento l'accesso a Cibiana è molto pericoloso, la strada non è sufficientemente larga per permettere l'accesso a Cibiana da parte di grandi mezzi, come corriere che arrivano da Cortina, ma soprattutto anche un'automobile, un'autovettura normale deve purtroppo pericolosamente invadere l'altra corsia per accedere a Cibiana se arriva da Cortina. L'opera fortunatamente è già stata finanziata, Veneto Strade mi aveva detto che avrebbe dovuto partire in lavori sarebbero dovuti iniziare a metà luglio, purtroppo c'è stato il coronavirus, ha rallentato tante cose, ha rallentato anche questo cantiere, Artusato, l'ingegnere Artusato che saluto di Veneto Strade mi ha fatto sapere che il cantiere dovrebbe iniziare a metà settembre, speriamo, forse addirittura concludersi entro l'anno, non ci spero, però già che comincia a metà settembre è una bella cosa. Anche perché occuparsi delle strade, occuparsi del territorio è sempre importante, dato che i disastri, tra virgolette, sono sempre dietro all'angolo, basta vedere quello che è successo di recente ad Auronzo. Mamma mia. Un altro progetto di cui si può parlare se mi lavori per la strada al Monte Erite. Finalmente, ecco, quelli erano dei fondi che noi avevamo ricevuto a seguito della tempesta Vaia e quella è la prima opera che siamo riusciti a realizzare, una sistemazione appunto nell'ottica di resilienza del territorio, quindi per evitare che future tempeste, che future avversità meteorologiche, potremmo definirle, danneggino nuovamente queste strade e quella strada era molto fragile, però per noi è molto importante perché permette di raggiungere la vetta del Monte Erite che è sicuramente il posto dove abbiamo la massima affluenza turistica, c'è il museo di Reinhold Mesner nelle nuvole, c'è un bellissimo rifugio, si gode di una vista meravigliosa a 360 gradi sulle Dolomiti più belle, tanto che... Con una terrazza, mi pare, anche di recente. Esattamente, con un bellissimo balcone panoramico realizzato dall'UNESCO insieme alla provincia di Belluno, quindi il lavoro di sistemazione che noi abbiamo fatto in quella strada, cercando comunque di mantenere l'aspetto naturale, di non fare un'opera troppo impattata, importante, era necessario ed è stata fatta una buona cosa, sicuramente sì. Per quanto riguarda sempre il discorso infrastrutture, lei ha un appello da fare che riguarda Cibiana. Certo, Cibiana ha un appello da fare da 20-30 anni, quello del ponte di Cibiana. Ecco, io ho avuto un recente colloquio con i vertici di Anas, c'era anche il presidente Gemme di Anas, che saluto, una persona naturalmente molto attenta, molto capace, gli abbiamo presentato le problematiche della fragilità, della viabilità di accesso a Cibiana di Cadore. Come ben sa anche lei, per arrivare a Cibiana da Venas bisogna discendere la valle, arrivare fino quasi al fondo in una strada particolarmente impervia, piena di curve, molto pendente, pericolosa anche d'inverno. Il ponte è una necessità, soprattutto per il fatto che la strada provinciale, ex strada provinciale 347, oggi strada statale 347, è l'unica alternativa che c'è da Longarone per raggiungere la valle del Boite e già oggi, proprio per l'attenzione che c'è rivolta a questi eventi sciistici che avremo il prossimo anno e nel 2026, è molto praticata, perché i turisti, gli ospiti hanno cominciato a capire che per non trovarsi imbottigliati nel traffico a TAI, a ospitale, in quelle zone lì particolarmente pericolose, si può appunto usare la nostra strada, ma va valorizzata, è l'ora di farci un ponte. Parlando di resilienza non possiamo che citare le giovani generazioni, non possiamo che citare il tema della scuola, anche qui c'è parecchio da dire. Un tema per il quale io personalmente sono molto sensibile, perché noi a Cibiana abbiamo la fortuna, nonostante siamo un piccolo comune, di avere una scuola, abbiamo sia un asilo che una scuola primaria, una scuola elementare, gestita dall'Istituto Compressivo di Cortina. È una struttura meravigliosa, pluriclasse, non ha tanti numeri, ahimè, però ha grandi spazi e soprattutto in questo ambito, in questo periodo in cui il coronavirus è una minaccia che non sembra essere estinta, almeno a quanto si dice, sicuramente decidere di iscrivere il proprio figlio in una struttura come quella di Cibiana potrebbe essere una soluzione anche per prevenire eventuali contagi, visto appunto il fatto che ci sono grandissimi spazi, aule molto grandi e pochi numeri, parliamo di una quindicina di studenti. Mi premetto una piccola digressione, io l'ho sempre vista come un sindaco innamorato di questo paese, secondo lei qual è la forza speciale di Cibiana e qual è il motivo per il quale i bambini dovrebbero poi fermarsi qui piuttosto che fuggire diciamo nelle grandi città? Certo, quello che ho appena citato naturalmente adesso è un discorso a parte per questo periodo di coronavirus, la forza di Cibiana sta nell'identità, l'identità cibianese, Cibiana è una storia antichissima, è stato un paese veramente molto forte durante il periodo della Serenissima perché ha sviluppato le lavorazioni del ferro, della chiave per cui Cibiana è famosa anche oggi e devo dire che veramente fra tutti i paesi che io ho avuto la fortuna di visitare nel nord Italia, l'identità di Cibiana è sicuramente la più forte e la più splendente, tanto che è riuscito a coinvolgere anche una persona che non è propriamente cibianese, che sono io, al punto da portarmi lì, a innamorarmi di una donna di lì, a sposarmi lì e infine a diventare il sindaco proprio dello stesso paese. Un'identità così forte non passa inosservata, chiunque ha la possibilità di visitare Cibiana, le sue bellezze, i suoi murales, la natura incontaminata che c'è intorno ne rimane abbagliato. Il mio compito è quello di valorizzare questa identità, di farla conoscere a tutto il mondo. E questa risposta ci traghetta anche al prossimo tema, il tema del turismo, ci sono delle novità, si riapre la stagione, come sta andando? Sì, ecco, eravamo dubbiosi sulla riapertura della stagione turistica, proprio appunto per questo problema sanitario, grave problema sanitario. Noi abbiamo deciso di essere coraggiosi, di riaprire il nostro ufficio turistico, abbiamo preso contatti anche con il consorzio turistico di San Vito di Cadore, che riguarda tutto quanto il comprensorio, quindi anche Cibiana di Cadore, con il loro presidente Gildo Trevisan e stiamo imbastendo finalmente una struttura di turismo un pochino più professionale. Ecco, noi da programma elettorale avevamo inserito questa cosa, naturalmente il termine professionale può essere inteso in tanti modi. Il concetto con cui lo intendiamo noi è quello naturalmente che ci sia una struttura che sia in grado di seguire il turismo che già c'è e che noi ci aspettiamo nei prossimi anni a Cibiana in sicurezza e naturalmente con molta professionalità. Ci sono tante bellezze a Cibiana e devono essere ben presentate quando si arriva nel paese, i nostri ospiti devono essere guidati e permettersi il lusso di godere di una buona vacanza. E anche devono avere la possibilità di bersi un caffè. Esatto, e finalmente dopo anni è stato riaperto il bar a Cibiana di Cadore. Grazie al coraggio del nostro Federico Vicentini, già gestore del ristorante Taula dei Boss, che ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura, l'ha chiamato il Biker Boss Bar, è sulla strada principale, sulla SS 347 e ho visto che già in questi primi giorni è molto frequentato, sempre in sicurezza naturalmente, dentro c'è una ragazza squisita, la Robby, che la saluto, è veramente molto forte, il locale è veramente ben tenuto e vale la pena sicuramente se si viene a Cibiana di fermarsi e bere un caffè. Parlerei anche un attimo di questo Taula, che è una struttura che offre cibo, ma anche è un palcoscenico, se vogliamo. Il nome originale con cui era stata realizzata quell'opera è il Polo Culturale delle Dolomiti, nato grazie all'interesse che aveva avuto l'allora amministrazione regionale nei confronti di Reinhold Mesner che aveva aperto il museo sulla vetta del Monterite. Si era pensato di realizzare un altro piccolo museo nel centro del paese per fare il collegamento tra il paese e la cima dove arrivano decine di migliaia di turisti ogni anno. È stata così realizzata questa struttura, ristrutturando un vecchio finile, un vecchio tabià e in ogni piano è stata inserita una struttura differente. Appunto, una delle più notevoli è sicuramente il ristorante Taula dei Boss, gestito egregiamente da Federico Vicentini. Nel piano superiore c'è un'ala dove si possono realizzare delle mostre, dove c'è una sala convegni, dove probabilmente il prossimo anno porteremo la nostra mostra delle chiavi che non sono riuscito a realizzare quest'anno insieme alla Presidentessa della Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Nel piano sotto invece c'è appunto il campo base di Reinhold Mesner, un museo meraviglioso, completamento del bel museo che c'è sulla vetta del Monterite. Restando in tema di turismo, alle viste anche una visita dell'assessore regionale? Certo, naturalmente noi sappiamo che Cibiana si basa principalmente sul turismo e il suo futuro dovrà essere quello, per le sue bellezze e per la sua collocazione. Quindi per noi è stato fondamentale cercare di sviluppare un'amicizia con tutte le istituzioni a livello turistico. Abbiamo recentemente avuto una visita dell'assessore del turismo della Regione Veneto, gli abbiamo fatto vedere alcuni degli appartamenti dell'ospitalità diffusa, la nostra bellissima ospitalità diffusa, che ne è rimasto stupito, è rimasto stupito che possa esistere una struttura del genere in un piccolo borgo come quello di Cibiana. Gli abbiamo presentato Reinhold Mesner anche perché per noi è fondamentale, come dicevo appunto anche l'anno scorso, riuscire ad arrivare a creare un impianto di risalita per il nostro Monterite, in modo tale che la vetta sia accessibile non solo d'estate ma anche d'inverno e che si possa utilizzare la strada per le sole salite a piedi senza la polvere che tirano su eventuali mezzi, eventuali navette e cose di questo tipo qui. Quindi naturalmente il percorso in quella direzione è necessario, però ci serve l'aiuto di una qualche istituzione di più alto livello. Il turismo naturalmente passa anche per la cultura, quest'anno tra l'altro c'è un importante anniversario che ha appunto le sue radici 600 anni fa, di cosa si tratta? Esatto, quest'anno ci sono ben due anniversari. Allora naturalmente quest'anno sono i 600 anni della dedizione alla Serenissima che fu firmata a Valle di Cadore il 23 luglio del 1420, naturalmente ha aperto le porte ad un periodo incredibile per tutto quanto il Cadore di sviluppo soprattutto artigianale, infatti come dicevo prima a Cibiana in quegli anni è nata la lavorazione del ferro e la lavorazione della chiave. Noi abbiamo deciso in collaborazione con la magnifica comunità di Cadore che ha aperto questa serie di eventi per quest'anno di dare un omaggio appunto a questa dedizione con il nostro nuovo murales. Il sessantesimo murales che è stato realizzato a Cibiana, opera di Icaro Lampo, è meraviglioso, realizzato proprio su una delle pareti del Taulà dei Boss, sono due stemmi che ricalcano appunto queste due date, il 1420 e il 2020, cioè l'inaugurazione di questa opera, in più c'è un leone che rappresenta la Serenissima Repubblica di San Marco che in bocca tiene un anello con le chiavi, simbolo di Cibiana. Questo murales fra le altre cose ricade anche nei 40 anni dei murales perché sono ben 40 anni da quando Osvaldo da Coll e Vico Calabro ebbero quest'idea di dipingere i muri di Cibiana, è stato... Dando il lapo, è una fioritura di murales. È stata un'inaugurazione meravigliosa che ci ha ricordato quanto bella è Cibiana, quanto belli sono i murales e che vale veramente la pena di farvi una visita. Trame di storia infine è un'altra attività di stampo culturale. Sì, che si inserirà sempre all'interno dei 600 anni della Serenissima Repubblica di San Marco, della dedizione, realizzeranno una rievocazione della forgia storica. Come dicevo appunto prima, Cibiana è diventata celebre per queste attività di lavorazione del ferro, più che altro per le chiavi. Oggi realizzare una chiave a livello fabbrile sarebbe molto difficile, bisognerebbe avere una grande abilità, però anche Cibiana non è partita subito con le chiavi. Inizialmente aveva cominciato a forgiare chiodi, come la vicina Forno di Zoldo. Il gruppo trame di storia, che appunto è in grado di rievocare una forgia antica, verrà a Cibiana di Cadore e realizzerà alcuni chiodi, mostrando soprattutto i più giovani, i più piccoli, come era la forgia molti anni fa. Quindi una cosa anche educativa, diciamo, cavallo tra storia, intrattenimento alla fine. Ma certo. Quando si tratta comunque di fare delle cose pratiche, queste cose sono diciamo sempre ben accette. Ringrazio il sindaco Gosetti per la sua disponibilità, il tempo a nostra disposizione termina qui, grazie ancora per la sua presenza. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.